Ciao a tutti, non ho fatto uscire questo video, non uscirà, non arrivo più normale, tipo le 5 del pomeriggio, le 2 del pomeriggio, le 7, le 8, ma oggi sono stato fuori con la scuola e siamo tornati qua alle 7, poi mi si è scaricato il telefono, quindi non ce l'ho fatta per farvi il video. Comunque, se non avete visto gli ultimi due miei video, quello di ieri, traverti da Roma, CSKA e quello di domenica, non di sabato, con la spalla, non te ne vedo a vedere. Poi, sto prossima settimana, dovrei riuscire a farla, però, non lo so, comunque, vorrei parlare un attimo dei fatti di ciò che è successo ieri, comunque, alla fine della partita ci sono stati dei fumogeni dopo la partita dei fumogeni SK, quei fumogeni che buttano intanto allo stadio, ma quelli non mi danno a far stagio perché siamo abituati a vedere i fumogeni dopo tante partite. Lo fatto più grave è stato quello che è successo prima della partita, quando stati 24 tifosi sono stati feriti e, almeno a notizia di ieri sera, non ho capito poi se erano 7 in più che erano feriti gravi, quindi in tutto erano 31 e 7 erano feriti gravi, oppure di quei 24 o 7 erano gravi. Comunque è stata chiusa la fermata, infatti pure oggi era chiusa, perché io, tipo, sono passato un attimo che devo prendere una cosa, vabbè. E ho visto che, cioè, all'avvicino ho visto che c'era chiuso, tipo, Repubblica fermata e chiusa, poi la sindaca subito è intervenuta, ma secondo me bisogna trovare dei modi per condigentare questi tifosi, perché, certo, è vero che non si può sapere chi è tifoso e chi è no, però magari quando c'è la partita, fare dei controlli, magari mettere qualche guardia che fa i controlli, perché così non accadano queste cose, cioè, non è possibile che, non mi ricordo se la prima o dopo, Roma Feyenoord, di 2-3 anni fa, venne, cioè, fu, 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 diciamo, danneggiata da una barcaccia, che sta alla piazza di Spagna, e quelli poi si furono impuniti alcuni, ma gli altri rimastero impuniti, e questa cosa non c'è sempre più nulla. Ma, boh, questi qui si sono fatti male, ma si sono fatti male da soli, eh, cioè, noi non abbiamo fatto nulla, poi c'è stato un altro piccolo scontro, un altro scontro, 15 persone fermate, una cosa tipo uno è stato ferito, ma una cosa meno grave vicino allo stadio, però, cioè, non è possibile che ogni volta questi vengono qui e tutto tranquillo, poi noi o loro, cioè, noi o loro, noi o loro siamo lì, e queste cose non avvengono perché i loro governi, perché i loro stati, non fermano tutto, quindi, se Salvini vuole fare qualcosa di buono, dovrebbe contingentare questi problemi, dovrebbero trovare dei modi, secondo me si potrebbe fare anche, si potrebbe fare così, che alle stazioni delle metro e alle stazioni, tipo, dei treni, vabbè, ma, tu avrei dei treni, vabbè, comunque, alla stazione delle metro, mettere delle guardie, per esempio, i controllori, che tu prima del, prima di imparare il biglietto, dici, tipo, gli fai dire, cioè, fai dire al, oppure, oppure, oppure ancora prima, quando, tipo, tu, prima di, prima di, tipo, prima di entrare, prima di entrare nella metro, solo quel giorno della partita, dell'evento straordinario, per scrivere, cioè, fai, devi dare un documento, che sei, per esempio, se sei russo, se sei italiano, o dare prova di, comunque, di qualcosa, così, almeno, così, almeno, così, almeno, loro, cioè, così, almeno, loro sta, cioè, loro, cioè, così, almeno, loro, non, cioè, così, almeno, loro sanno, per esempio, che c'è, ci stanno questi qui nella metro, e, magari, magari, fanno andare a gruppi, magari, quelli, i tifosi esterni fanno andare a gruppi, cioè, senza farli andare, tipo, vintraente insieme, come è successo, poi, lì, che, se, devono saltare sulla scala, e la scala è ceduta, e tutti quanti si sono trovati addosso, poi, gli hanno fatto, per un video, non so come, forse, forse l'ha fatto qualcuno, tipo, ha visto che questi erano esaltati, oppure, magari, uno, che era venuto, con i vestiti del gruppo, e ha visto quelli saltati, che saltavano, e io la farò un video, così, ha visto, prima da tragedia, io, non so che dirvi, cioè, queste cose succedono sempre in Italia, perché prima, perché prima, il problema degli Ultras, di questi, qui, pur al nord, degli Huligans, era, era un problema forte, poi, in, 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 in Inghilterra, in Inghilterra si è riuscita abbastanza a contingentare, Poi c'è l'anno scorso successo quella cosa Tra lì per pure Roma Pre partita Ma vabbè Comunque Io sono molto 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 Indignato Perché non possono accadere Sempre queste cose Nessuno faccia qualcosa Faccia qualche legge E queste persone devono essere Subito rispettate Nel loro paese E messe subito in galera Perché non Cioè vabbè In galera perché Perché ok Essere saltati ma non lo puoi fare Cioè non lo puoi fare nella metro Cioè non lo puoi fare nella metro A rischio Cioè ti ovviamente che ammazzisci le persone Perché queste persone Vengono travolte dal Cioè da te Che sei saltato Magari poi sei ubriaco Ti metti a Ti metti magari Non so a fare qualche cazzata Vabbè Quindi Questa cosa qua È molto È molto grave E Grave E speriamo che non si riveda più Perché Non si può fare ogni volta Che questi vengono a Roma Che siano russi Che siano tedeschi Che siano francesi Che siano inglesi Ma che siano anche Anche magari italiani Di altre squadre Che è successo Non mi ricordo quanto tempo fa Quella cosa tipo Che c'era Tipo Napoli-Florentina Mi pare la finale O semifinale Di Coppa Italia Mi pare che Anzi Doveva essere Napoli-Florentina Tipo 2013 O 2014 Qualcosa di genere E Quello E quello Fu ucciso Fu ucciso uno Che mi pare Si chiama Sposti Di Cognone Che Perché ci furono Questi scontri Cioè non è possibile Che queste cose Ancora oggi avvengano Magari poi I colpi I polini Restano impunti Ecco Quindi Fatemi sapere Che cosa ne pensate Di tutta questa situazione Commentate Spolliciate Scrivetevi E ci vediamo Ai prossimi I prossimi video Il prossimo dovrebbe essere Non lo so eh Penso sabato O domenica Per la partita Perché non ci sono Altre cose Clamorose Perché la partita Di Napoli Stasera non l'ho vista Non mi andavo a chiederlo Quindi C'è C'ho Io avendo mezz'origine Di lì Diciamo che In Europa Di fu Napoli E magari in campionato Sono contento Se vince Con Se vince Con tutte le squadre Perché Se vince lo squadetto Al posto della Juve Però Oggi non mi andavo Di guardarlo Ecco Vabbè Commentate Spolliciate Iscrivetevi E ci vediamo In un nuovo video Buon Ciao